Sono stato in un ristorante italiano stellato qui a Londra e oggi in questo video voglio parlarvi di food photography, ma non solo di quella che è la tecnica proprio per scattare le fotografie, bensì di quella che è stata l'esperienza di come ho trovato il cliente e soprattutto di quale è stata la mia proposta creativa. Io sono Marco, fotografo pubblicitario, vivo e lavoro a Londra e qui sul canale condivido video di fotografie post-produzione. Se ancora non mi conoscevi ti invito ad iscriverti al canale, lasciare un mi piace, un commento di supporto, veramente è davvero importante perché come dico sempre le statistiche sono in calo, quindi fatemi sentire tutto il vostro supporto, lasciate qui sotto in descrizione l'icona di una fotocamera, non so fate qualcosa però fatemi sapere che ci siete. E ovviamente date un'occhiata a tutti i link utili perché c'è anche il link alla community telegram e alla pagina d'amazon dove trovate tutta l'attrezzatura che utilizzo. Ma entriamo nel vivo del video. Saprete sicuramente che non sono food photographer, però ho studiato anche food photography e soprattutto arrivato comunque a un certo punto di conoscenza, di luci, composizione eccetera, non è poi tanto difficile fare anche food photography. Giulia Restaurant è un ristorante italiano che ha preso da poco la stella Michelin, è letteralmente vicino casa e ci sono stato a mangiare diverse volte all'interno del ristorante. Ho conosciuto Giulia ma non a livello approfondito, semplicemente abbiamo scambiato qualche chiacchiera e da lì mi è venuta proprio l'idea di realizzare un contenuto e propormi come fotografo per il ristorante. Per due motivi, innanzitutto perché volevo appunto fare il contenuto ma soprattutto perché avevo notato un problema, mettiamolo tra virgolette, di quella che era la pagina Instagram che il ristorante stava andando a creare e la vediamo fra poco. Ovviamente ho contattato Giulia, ho chiesto di vederci così dal vivo per spiegarne un po' quello che avrei voluto realizzare, quindi il contenuto video, fare delle fotografie di test da regalare ovviamente in cambio della creazione di un contenuto ed è anche per questo che ovviamente ho potuto fare anche questo video. Quindi cosa ho fatto? La prima cosa è stata conoscere Giulia, fare la mia proposta non economica, solo una proposta creativa e poi per email, avendo capito le esigenze ovviamente da ciò che me aveva detto lei, ho potuto fare una presentazione che ho mandato per email. Principalmente loro cercavano delle fotografie molto pulite, senza la presenza di troppi props, di troppi ingredienti e che potessero utilizzare ovviamente sulle guide Michelin. Infatti per chi non lo sa, le foto che vanno sulle guide Michelin sono veramente foto pulitissime, c'è solo il piatto, la composizione ed è anche per questo che vediamo spesso food photography scattata su fondo bianco, piatto bianco, tutto super aureo, illuminato, diciamo con la presenza di luci molto morbide. Quindi questa è stata proprio la prima richiesta, però in generale comunque non essendo solo foto da indirizzare al mondo stellato, ma bensì da utilizzare sui social e sulle storie, andava comunque bene realizzare foto di preparazione di pasta, preparazione dei piatti e comunque in generale delle scene un po' da ricreare all'interno del ristorante. Quindi vediamo qual è stata la mia proposta creativa. Innanzitutto anche qui, quando create delle presentazioni mantenetevi sullo stile pulitissimo, non aggiungete effetti, grafiche pesanti, veramente il minimalismo funziona su tutto e sempre. Prima cosa ho fatto un'analisi visiva di quello che era il loro feed e comunque non si tratta di brutte fotografie, ci tengo a ripeterlo, semplicemente si può migliorare ovviamente con il tempo e scattando sempre nuove fotografie. Avevo analizzato che come prima cosa risaltava l'occhio alla luce uniforme e omogenea, che rende i prodotti poco tridimensionali, poca presenza di chiaroscuri per concentrare l'attenzione sul punto desiderato, quindi una sorta di vignettatura fatta con luci, comunque delle maschere eccetera, era tutto troppo uniforme, feed popolato di piatti con poca interazione umana, mancanza di foto relative al beverage, scarsa sperimentazione di angolazioni, nessuna foto relativa agli ingredienti primari per trasmettere qualità e freschezza, ma questo vi ripeto era un po' più per le storie eccetera, contenuti genetici o ripetitivi, appunto sempre piatti di pasta, sempre le stesse cose, e poco utilizzo di ingredienti per lo styling della foto. Avevo detto appunto il discorso della foto per la guida Michelin, però poi in generale, come vi dicevo, nel feed del ristorante ci può stare ogni tanto, soprattutto perché loro poi mandano a ricercare ingredienti italiani di stagione, che quindi importano dall'Italia, e sono comunque ingredienti freschi e di qualità. Sempre continuando con la presentazione, ho fatto un riassunto dicendo che la troppa presenza di dettagli sul cibo e foto di impiattamenti rende il feed simile a un blog di cucina ricettario online, quindi non si capisce che è un ristorante, potrebbe benissimo essere un ricettario. Gli utenti saranno più predisposti ad interagire e più convolti se aumentiamo la presenza di tratti umani, quali possono essere delle mani, una foto scattata da dietro a un soggetto, ma questo ovviamente lo si fa nel tempo. Con l'introduzione di più chiaroscuri, ogni foto avrà il suo effetto wow e renderà irresistibile qualsiasi piatto. L'uso di ingredienti grezzi e non cucinati per completare la composizione aumenterà il senso di qualità e freschezza dei piatti. L'introduzione di foto di beverage susciterà più interesse nei visitatori a provarli, quindi aggiungere delle fotografie di beverage o comunque in generale aggiungere ingredienti rende appetitoso anche quello che si sta andando a cucinare. Proposta di potenziamento dei contenuti visivi. È qui che ho creato un mood board e ho creato due feed di come potrebbe essere appunto il loro feed con le fotografie che ovviamente potremmo scattare nel tempo. Creare e adottare una palette di colori che rifletta l'identità del brand e utilizzarle in modo coerente in tutte le immagini. Utilizzare regole di composizione e spazio negativo per creare immagini ben bilanciate ed esteticamente gradevoli. Esplorare nuove idee creative e approcci visivi per mantenere il feed fresco e interessante per gli utenti. Utilizzare le immagini per raccontare una storia o trasmettere un messaggio chiaro e coinvolgente agli utenti. Introduzione di chiaroscuri per ridurre l'effetto flash con uno stile più naturale e appetitoso. Nuove idee creative e approcci visivi. Diciamo qui ho cercato di racchiudere non solo quelli che erano i contenuti fotografici ma aggiungere dei servizi ovviamente all'interno del pacchetto. Carosello di cocktail o vini ideali da abbinare ai vari pasti presenti nel menu mensile. Infatti non compare in alcun modo la presenza di beverage o comunque vini all'interno del feed. Posto mensile che riflette la stagionalità degli ingredienti, festività o eventi speciali. Questo può essere anche un contenuto utile per creare dei sondaggi ad esempio delle curiosità su un ingrediente che si è andato a utilizzare nel piatto. Bisogna ovviamente tenere alta l'attenzione delle persone ma soprattutto questo lo si può fare all'interno delle storie. Quindi fare una storia chiedendo alle persone quando è nato il piatto di pasta e pomodoro in Italia. Non so, sto sparando cose a caso. Più contenuti dietro le quinte per mostrare il processo creativo e la cura dei dettagli. Sperimentazione con angoli di ripresa in soliti. Prospettive diverse e close up per aggiungere varietà visiva. Video stop motion e video brevi per suscitare interesse nel provare i vari piatti. Anche qui ho aggiunto il discorso video, l'ho messo nel pacchetto, diciamo in un pacchetto intero oppure, quindi foto e video, oppure solo foto o solo video. Questo perché ovviamente potrebbe servire al ristorante di voler realizzare in un certo momento solo foto in un altro momento solo video e potrebbe ovviamente interessare come discorso. Vi ripeto, questa è una cosa importante da fare perché quando offrite un pacchetto completo può un po' spostare diciamo l'interesse della persona. Invece offrire quel pacchetto e poi contenuti alternativi può non solo far pensare che hanno la possibilità di scegliere ma soprattutto vi assicuro che nel tempo magari ci sarà quel momento in cui vi richiederanno anche più cose proprio perché hanno la possibilità di adattarsi e scegliere. Ho incluso alla fine della presentazione tutte le fotografie che ho trovato su Pinterest alle quali volevo ispirarmi e ci tengo anche a precisare che le foto che ho realizzato in questa prima sessione di shooting erano un po' foto di sperimentazione indirizzate principalmente ai piatti un po' ben empi nel feed con quelli che sono i piatti del mese perché infatti il menu di questo ristorante cambia ogni mese quindi c'è necessaria continuità anche di scattare nuove fotografie ma anche perché volevo realizzare il contenuto video quindi diciamo non volevo perdere troppo tempo tra virgolette nel iniziare già ad introdurre il discorso di scattare foto a persone ovviamente io sono andato in un momento in cui non c'erano persone abbiamo utilizzato la sorella nella proprietaria utilizzato il termine come modella però appunto magari col tempo si può andare lì non so a scattare quando ci sono degli amici delle persone conosciute si vanno a fare due foto di mani eccetera cosa che ho fatto ma per rendere un po' più naturali magari si possono pensare delle sessioni di shooting in un secondo momento per fare solo contenuti interattivi e poi dalle prossime volte sicuramente inizieremo a fare quelle che sono delle foto di cocktail di preparazione di cocktail quindi delle cose un po' più mirate dove andiamo a scattare tra virgolette meno fotografie ma più pensate piuttosto che riprendere un momento che capita random quindi seguire lo chef dall'inizio alla fine e fare fotografie di tutti questi passaggi inizieremo appunto a fare delle foto pensate voglio analizzare con voi alcune fotografie diciamo vi faccio vedere quella che è la selezione finale delle fotografie che ho mandato l'avete già vista ovviamente quando vi ho fatto l'introduzione di questo video però appunto vediamole in modo anche più approfondito innanzitutto ci tengo a precisare che non sono il food photographer che mette il pannello di diffusione bianco luce flash o luce naturale o luce led sparata contro il pannello led tutto bianco tutto paradiso eccetera perché credo che è vero che nel food quella luce è molto interessante ma dall'altra parte la presenza di poche ombre e luce troppo morbida va a rendere meno appetito sul piatto perché soprattutto sugli ingredienti lucidi non abbiamo quel bel riflesso che ci va a dare la luce dura quindi per queste fotografie io ho utilizzato un softbox da 65 cm della small league lo stesso che mi sta illuminando in questo momento ma soprattutto in alcuni contesti ho utilizzato addirittura la parabola con la griglia da 20 o 30 gradi ho portato ovviamente anche con me il pannello infatti nella figura intera dove c'era sia lo chef da riprendere che il piatto mi è stato utile perché ovviamente avevo bisogno di una scena più ampia il 65 cm sarebbe stato un po' troppo duro ma comunque ho cercato di variare con le luci proprio per avere quell'effetto di chiaro-oscuro che vi dicevo creare delle vignettature naturali sfruttare degli oggetti che creassero riflessi sul tavolo o comunque in generale ombre sui piani poi l'altra cosa che vi dicevo appunto è il discorso di andare a rendere tutto super minimale sfruttare quelle poche cose che l'istorante mette a disposizione quindi i tovaglioli posate e giusto qualche decorazione con i bicchieri quindi niente di troppo complicato e anche in questo caso non avrebbe senso utilizzare un ripiano in marmo o dei piani fake per fare le fotografie dei piatti sfruttiamo quello che c'è all'interno dell'istorante anche per creare un contenuto più veritiero questi due sono gli antipasti qui ho utilizzato un tovagliolo ovviamente non vedete la composizione in due terzi immaginatela già nel feed di tagliata quadrata e per le storie comunque bisogna adattarsi qui ho cercato di scattare quanto più possibile in verticale anche per adattare i contenuti alle storie proprio perché ormai si lavora quasi solo in verticale e come vedete anche qui ho utilizzato luce dura la luce dura come vedete ovviamente qui ho accentuato un po' con la post produzione il colore e la vividezza dei ingredienti ma veramente il piatto è molto fresco e molto appetitoso e veramente c'è una sola luce con il softbox da dietro grazie al flash ovviamente ho potuto escludere quella che è la presenza di una luce naturale vicino alla finestra proprio del ristorante o meglio la porta d'ingresso e quindi rendere tutto un po' più drammatico appunto andare a richiamare quello che era il mood board con la presenza di chiaroscuri ho evitato le foto in cucina diciamo che la cucina era molto piccola per lavorarci ma soprattutto in cucina c'è sempre una situazione un po' di casino con tutti gli ingredienti sparsi un po' di qua di là ci sono le pentole a deposito e i piatti quindi o si va a lavorare molto di dettaglio però in questi casi secondo me la preparazione come abbiamo fatto appunto l'abbiamo fatta esternamente quindi nella sala piuttosto che in cucina proprio perché i piatti poi sono da comporre comunque con una precisione minuziosa ovviamente poi prendendo gli antipasti ho realizzato anche una foto al tavolo così vi ho fatto vedere semplicemente o meglio ho fatto una foto semplicemente dove mostravo i piatti a tavola quindi che possono suscitare interesse nell'ordinarli poi ho proseguito nel fare altre fotografie queste sono le foto dei secondi abbiamo carne abbiamo anche la presenza della pasta infatti ho fatto un po' di foto quando tutti i piatti erano pronti per rappresentare un po' le portate del mese quindi creare questi discorsi di sfocature e dare attenzione a un solo piatto magari presente al centro della composizione e poi ho fatto dei dettagli che andassero a mostrare proprio un zoom e un close up su quelli che sono gli ingredienti per suscitare fame infatti mi sta venendo una fame assurda e soprattutto la cosa più bella è stata poter mangiare poi alla fine tutta questa roba perché era affamatissimo quindi come vedete queste sono le fotografie ho continuato sempre a scattare un po' quelle che sono le condizioni al tavolo ho sfruttato delle mani di uomo, mani di donna e ho fatto anche delle foto allo chef mentre preparava infatti vedete qui addirittura abbiamo la presenza di una luce dura anche in questo caso ho creato un'ombra in basso e abbiamo poi sempre presenza di lucidura quindi queste attenzioni che vanno proprio a concentrare ovviamente il punto di vista solo sul piatto e lo fanno risaltare vi ripeto molte di queste foto le dovete immaginare le tagliate in 4 quinti o quadrate quindi per questo abbiamo poi degli spazi vuoti diciamo per le storie magari ci si posiziona una grafica con la call to action per invitare a prenotare eccetera la descrizione del piatto quindi è importante anche distribuire degli spazi proprio in visione dell'aggiunta di queste grafiche qui come vi dicevo stavo utilizzando la sorella della proprietaria che stava tirando un po' di forchettate e fingendo appunto di mangiare sempre pochi elementi sul piano tutta l'attenzione sul piatto ma comunque mantenendo degli spazi interessanti proprio per non dare l'attenzione solo al piatto e farlo continuare ad essere un blog di cucina anche qui preparazione e ovviamente poi c'è stato il momento in cui lo chef ha preparato la pasta diciamo proprio al momento infatti la stessa che poi ha cucinato e ho fatto alcune fotografie proprio durante la fase di preparazione quindi queste sono le foto selezionate ovviamente ce ne sono molte di più diciamo questa era la scelta come vedete ci sono circa 200 foto selezionate e 600 foto catturate forse esagerate un pochino però erano tanti piatti e comunque in generale molti momenti erano tipo molto rapidi e veloci quindi meglio sempre avere più fotografie perché quando si versa un liquido ad esempio sul piatto poi gli chef fanno questi passaggi in modo molto veloce proprio perché se bisogna creare un semicerchio con una crema se lo fai lentamente non ti viene preciso come tirare il cucchiaio e fare la foto quindi è importante anche scattare non in raffica ma comunque diciamo abbastanza velocemente infatti qui poi il flash il Godox AT400 Pro mi è stato molto utile perché ha un tempo di ricarica veramente ridicolo che quindi mi è diciamo mi ha consentito proprio di scattare in raffica anche con il flash ad alte potenze ovviamente non a massima potenza ma fino a un ottavo, un quarto comunque ti riesce a tenere testa quindi come vi dicevo non è un video super tecnico su come ho scattato ogni foto su come ho posizionato la luce ma probabilmente dai b-roll che ho messo a video l'avrete sicuramente capito ma fatemi sapere ovviamente se volete vedere un contenuto nel quale analizzo proprio in modo dettagliato perché sono anche disposto magari la prossima volta a fare un video stesso live tra virgolette all'interno dell'istorante dove posso diciamo spiegare un po' meglio quelle che sono le luci di come si vanno a realizzare le foto soprattutto perché ovviamente dalle prossime volte ci divertiremo molto di più con quella che è la creatività in generale proprio per l'introduzione di tutti quelli che sono gli argomenti extra diciamo del locale quindi grazie per aver visto questo video fatemi sapere cosa ne pensate soprattutto se avete trovato ispirazione anche per presentare voi un qualcosa del genere a un vostro cliente a un locale dove andate mi raccomando buttatevi sempre in qualsiasi occasione perché anche lì io ho conosciuto questo locale andando a mangiare cioè veramente tutti i giorni abbiamo delle occasioni di lavoro che noi non vediamo perché o non abbiamo il coraggio di proporci oppure lasciamo così andare e nemmeno ci passano ci passa per la testa ovviamente di proporci mi raccomando fate tantissime bellissime foto un saluto da Marco ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti